Non è riuscito a vincere la sua partita più importante dopo averla giocata per quasi cinque anni. Al massimo delle sue possibilità, senza risparmio, con il pensiero fisso di poterla spuntare prima o poi, è morto a 46 anni dopo una lunga malattia l'ex centrocampista del Bari, Klaas Singeson. A comunicarlo tramite Twitter, il club svedese dell'Elfsborg, che il gigante buono, come era chiamato dai suoi sostenitori, aveva allenato da una sede a rotelle sino al 16 ottobre, prima di abbandonare la panchina per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Non avevano mai smesso di seguirlo i suoi tifosi dopo la notizia della malattia. Impossibile non amarlo per i baresi e non solo. Arrivo in Puglia nella stagione 95-96, Klaas fuori forma e con un ruolo da ricostruire. Se ne andò nel 98, dopo 94 presenze e 12 gol. I due rifilati a Lecce i più importanti, quelli da cui il Bari ripartì per la promozione in A nel 1997. Se ne andò rimpianto a Bologna, trascinando il rosso-blu dall'intertoto alle semifinali UEFA. Una diga, una roccia piantata in mezzo al campo, dritto come un fuso, lo è rimasto dentro, anche quando la malattia gli ha concesso di camminare appena 20 metri alla volta. Accanto i suoi nuovi compagni di squadra, la moglie Veronica, i figli Martini e Davide e i tifosi di sempre, quelli che non hanno mai smesso di scandirne il nome nelle curve di mezza Europa. Un vichingo aveva dichiarato in un'intervista lo scorso aprile, non muore senza lottare. È vero perché Klaas se ne è andato in mezzo al campo, lì dove lo avevamo lasciato con la maglia biancorossa.